50% della mia forza giornaliera se ne va su Omar che stai facendo? spostare, spostati su qua che faccio? finger come si chiama? finger poter finger? finger? è duro ragazzi e l'altro 50% della mia forza se ne va su quella persona là oh my god che mi dici? sta morto? ci metto del ghiaccio Omar? no no? quindi si asciugano a dove è la pazza? a Marta questo è un papi sta proprio in casa e miau quando è pazza ci sta certo di pazza qua allora dobbiamo scolare qua Dio santo aiutami tu Dio santo aiutami tu raccoglino i farfalle? ahahahahah di pazza ecco non ci vado se ne stessero ecco ma chi stenga a fare? ma chi stenga a fare? non c'è mai mi chiede chi stenga a capire più niente no mamma ahahah 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 sto mettendo il soggetto no no ragazzo via spost cioè è spost ma vabbè a dire ci stende il soggetto non lo sa ragazzi ahahah 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 ahah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.